In attesa della prossima partita contro il Monza, valevole per il trofeo Luigi Silvio Berlusconi, il Milan e i dirigenti dell'area tecnica rossonera stanno pianificando gli ultimi colpi di mercato. Dopo aver acquistato Morata, dopo aver acquistato Pavlovich, il Milan vuole chiudere altri colpi, seppur è un mercato che va molto a rilento. Tanti tifosi stanno contestando questa velocità di esecuzione dei dirigenti rossoneri che sembrano voler sempre prendere tempo per fare l'investimento corretto, investimento corretto nella scelta del calciatore, ma soprattutto investimento corretto anche riguardante l'entità dell'esborso economico, dell'esborso finanziario. Il Milan non è che fa fatica a tirar fuori la liquidità, la liquidità ce l'ha, è un club sano, un club solido, ma il Milan non vuole sperperare risorse, magari ritenute eccessive per alcuni profili. E su tutte il capitolo Fofana, perché il Milan è consapevole che Fofana sia un giocatore di livello, un giocatore che serve, un giocatore che ha le caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche che fanno il proprio caso. Ma è ben consapevole anche che strapagare un giocatore che fra dieci mesi, o meglio a gennaio, può già firmare come free agent, quindi come parametro zero, sicuramente non vede di buon occhio investire 30 milioni di euro ritenuti veramente una cifra importante. Il Milan vuole ovviamente cercare di portare a casa a meno il calciatore, 18-20 milioni di euro, che è già una cifra se consideriamo il fatto che nella prossima va a scadenza e a gennaio può firmare gratis, davvero già molto importante. Ma il Monaco si fa forte di questo interesse, prima del West Ham sfumato, ora del Manchester United, che però non considera Fofana come una priorità, come un giocatore su cui investire. E quindi il Milan spera, spera sempre, anche se sta coltivando il colpo con E del Borussia Mountain Club, a che vogliamo parlarne di con E perché è un giocatore comunque molto interessante e faremo un video ad hoc questa sera. E quindi se da un lato il Milan non vuole fare sborsi eccessivi, visto e considerato la situazione contrattuale, dall'altro lato, fronte uscita, potrebbe esserci un'accelerazione sul mercato in entrata, quando e qualora dovesse uscire un centralampista. E il più indirizzato verso l'uscita è Adli. Adli che potrebbe andare in Premier League, il Brentford ha offerto 12 milioni di euro per il calciatore, una cifra che il Milan ritiene congrua, una cifra che in qualche modo permetterebbe al Milan di registrare anche una piccola plusvalenza. E un giocatore, Adli, che nonostante il grande milanismo dimostrato in queste ultime stagioni, però non ha trovato continuità se non nell'ultimo periodo con Stefano Pioli e non rientra nei dettami, nei piani, nelle idee di Fonseca, che vuole giocatori più dinamici, giocatori più moderni. Adli è un giocatore dalla grande, infinita classe, ma un giocatore che ha un ritmo che probabilmente per il cambiato italiano, ma soprattutto per l'idea tattica di Fonseca, non è congeniale. Quindi piuttosto che tenere un giocatore lì che non fa parte, non rientra nel progetto rossonero, nei piani rossoneri, il Milan preferisce sicuramente optare per altri profili. Quindi da un lato Fofanà in possibile entrata, mercatore lento proprio perché vuole ponderare bene l'investimento. Dall'altro lato Adli, Brentford, che potrebbe spingere, potrebbe anche accontentare il Milan magari rialzando leggermente l'offerta, che però il Milan ritira già congura per il calciatore, per Adli. Quindi la decisione sarà del calciatore Franco Algerino che dovrà prendere la decisione a breve, perché il Milan vuole concludere prima l'inizio del campionato la sua squadra, nonostante per molti tifosi siamo comunque già in ritardo perché lì davanti alla difesa un giocatore come Fofanà, con quelle caratteristiche lì, serve davvero molto, serve davvero tanto, soprattutto per ritrovare quell'equilibrio che nella scorsa stagione è venuto a mancare e soprattutto è venuto a mancare quella forza, quella capacità di intercettare a palloni lì davanti alla difesa. Fatemi sapere amici di Rubrica Rossonera cosa ne pensate di questo video, dei temi trattati e come sempre cliccate like al video, iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rossonera e come sempre seguiteci sui nostri canali social.